Dimissioni che fanno rumore, ma il comune di Parma minimizza. Si è chiuso un ciclo, come già era accaduto in passato, ora si guarda il futuro, dimensionando l'attività del Teatro Regio alle reali capacità finanziarie della fondazione. L'amministratore esecutivo Carlo Fontana e il direttore artistico Paolo Arcà lasceranno i loro incarichi il 31 dicembre prossimo ed ora c'è il problema della successione. Probabile che il comune si affidi ad un bando pubblico, ma che qualche nome possa essere già all'attenzione dei vertici della fondazione e poi l'idea che si possa ulteriormente stringere l'alleanza con la fondazione Toscanini. Tuttavia la diminuzione parallela dei ricavi impone una riflessione sulla struttura stessa del Regio, che è oggi un teatro di tradizione e come tale deve attentamente valutare cosa si può permettere, sia in termini di struttura che in termini di programmazione. Sull'addio di Fontana e Arcà ecco il giudizio dell'assessore alla cultura del comune Laura Maria Ferraris. Abbiamo appreso di questa volontà che aveva già espresso, una volontà che non ha nulla a che vedere di rottura con l'amministrazione o con il teatro stesso, ma nasce da un'analisi anche delle possibilità del teatro oggi. Noi abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo con il dottor Fontana, quindi sapevamo e avevamo già avuto modo di apprendere quali erano i suoi dubbi rispetto alla sua figura sul teatro in questo momento. Quindi di conseguenza, conoscendo la sua serietà, abbiamo deciso di dare corso alla sua decisione. È chiaro che adesso il teatro e il consiglio di amministrazione in privis devono effettuare delle scelte che potrebbero andare in una direzione diversa. Grazie.